Musica Se si soffre col ceviso abbiamo detto tutto Sta' una bella partita anche se ci piacerebbe vincere molto più spesso così Meno male che loro erano molto più deboli di noi penso Non vogliono che il Lecce vada in serie B Ogni domenica arriva un moreno come l'Italia con la Corea, così è Davvero l'Albitro è stato proprio bastardo perché è stato proprio contro di noi l'Albitro C'è quanto ne importa? Che emozioni le ha date? Molta emozione E vabbè però hanno messo tanto cuore, no da un po' di tempo non si vedeva Troppa sofferenza però questi merda di Albitri si potrebbero dare pure una calmata E fiscare almeno un fallo a favore del Lecce Su 20 falli che il Lecce era degno di poterli avere per lui Non ha dato uno fallo, uno solo, uno Per fortuna, sempre forza a Lecce Grande sofferenza, abbiamo vinto, ha risultato meritato, è grande il Cevanton Un infarto però, meno male abbiamo vinto Cevanton importa che emozioni le ha date? Tanta, è lui, sempre lui